Il Consiglio dei Ministri di oggi ha avuto un ricco ordine nel giorno, anche con ratifiche di trattati internazionali, varie norme per regioni a statuto speciale, insomma ci sono stati i vari provvedimenti. Segnalo quelli di maggior rilievo. Abbiamo varato un decreto legge che accelera la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA. In particolare il decreto legge fissa al 30 giugno 2016 il termine per il completamento dell'operazione di trasferimento a terzi ad una nuova compagine societaria che consenta di dare un futuro stabile, definitivo, di prospettiva industriale e di risanamento ambientale dell'ILVA. E inoltre, sempre in funzione di accelerazione della cessione a terzi, uno stanziamento di 300 milioni che facilita il percorso di transizione. Abbiamo poi anche varato la legge europea, adempimento obblighi derivanti dalla pertenenza all'Unione Europea, una serie di misure che rispondono a disposizioni europee e che ci tengono allineati alla normativa europea. Voi sapete che la legge europea noi ogni in modo periodico variamo una legge europea in modo da essere sempre allineati con gli ultimi avanzamenti della legislazione europea. In terzo luogo un pacchetto di nomine di grandissima qualità, di altissimo profilo. Abbiamo indicato per completare il collegio dei commissari Consob il magistrato Giuseppe Maria Berruti e il dottor Carmine Di Noia. Poi abbiamo nominato il prefetto di Milano nella persona del dottor Alessandro Marangoni e infine il nuovo segretario generale del Ministero del Lavoro nella persona del dottor Paolo Onelli. Queste sono le scelte fondamentali che ha fatto il Consiglio dei Ministri di oggi. In particolare sulla questione del decreto legge che accelera la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA do la parola prima al Ministro Guidi e poi al Ministro Galletti. Federica. Sì, grazie. Io ritorno sull'esposizione del sottosegretario per dire che, come diceva giustamente lui, abbiamo disposto la data del 30 giugno come data ultima per la scelta di un soggetto aggiudicatario che verrà naturalmente valutato e scelto attraverso una procedura evidenza pubblica per arrivare evidentemente a una cessione degli asse del complesso del gruppo ILVA oggi in amministrazione straordinaria. Questo naturalmente per dare una accelerazione rispetto a una soluzione di rilancio industriale naturalmente del gruppo ILVA. Per accompagnare e anche sostenere questa accelerazione sono disposte queste somme, questi 300 milioni di euro di finanziamento. C'è anche naturalmente, abbiamo previsto anche che il soggetto aggiudicatario, naturalmente che verrà anche valutato in base alla bontà del piano industriale che presenterà e selezionato naturalmente con criteri di trasparenza e naturalmente dal punto di vista anche della proposta ambientale, quindi il nuovo soggetto aggiudicatario nel momento in cui presenterà un nuovo piano industriale che verrà valutato potrà presentare evidentemente un nuovo piano AIA che verrà valutato con la stessa procedura, con la stessa modalità che peraltro avevamo già adottato nella valutazione dell'AIA oggi esistente. AIA oggi che naturalmente rimane, rimane in vigore e che viene diciamo così omogenizzata nei termini al 31-12-2016, nel senso che una serie di scadenze che oggi erano previste anche proprio in virtù di questa scelta di accelerazione della procedura evidenza pubblica per la definizione di un soggetto industriale privato aggiudicatario, abbiamo deciso di procrastinare di pochi mesi, quindi spostare la data al 31-12-2016 per consentire nell'emore naturalmente la definizione di questa procedura di aggiudicazione attraverso una procedura di evidenza pubblica e quindi la presentazione di un nuovo evidente piano industriale che evidentemente dovrà essere poi raccordato per quello che riguarda le necessità dell'AIA, rispetto a quello vigente e rispetto naturalmente a eventuali modifiche che saranno poi valutate. Grazie. Federica Gianluca, Ministro dell'Etti. Come avete capito la parte ambientale resta elemento determinante nel piano di salvataggio dell'Ilva e mi fa piacere che l'abbia detto il Ministro Guidi che è il Ministro dello Sviluppo Economico, perché su questo c'è un punto di intesa molto forte. Così è dall'inizio. La posticipazione del termine di realizzazione del piano ambientale dal 4 agosto al 31-12 è proprio dovuta dal fatto che il piano industriale che presenterà l'aggiudicatario potrà comportare una modifica di quel piano ambientale. Le modifiche al piano ambientale vengono fatte con la stessa procedura già utilizzata per la formazione e l'approvazione del piano ambientale. Ricordo che a tutt'oggi l'Ilva rispetta tutte le BAT, cioè tutti i limiti di emissione, oggi a Taranto e all'Ilva sono rispettati, tutti i limiti di emissione europei. Non solo, ma il piano di ambientalizzazione prevedeva degli step intermedi. Uno di questi era la realizzazione dell'80% delle prescrizioni entro il 31 luglio 2015. Oggi possiamo dire con certezza, perché è stato certificato dall'ISPRA, che quel primo step è stato rispettato. Quindi resta in vigore quel piano con la possibilità di rivederlo alla luce del nuovo piano industriale e finanziario che il nuovo soggetto aggiudicatore presenterà. Grazie Gianluca. Non so se ci sono domande, interventi. Bene, grazie a tutti. Buona giornata.